Il governo italiano sta facendo uno sforzo molto significativo, non possiamo arrivare dappertutto perché lo Stato non può farsi ovviamente carico di tutte le istanze, delle famiglie, delle imprese italiane, molto dipende da noi stessi, però io credo che il Paese se metterà in campo la stessa forza, la stessa capacità di resistenza e di solidarietà che ha dimostrato nei giorni durissimi del lockdown e della chiusura totale, credo che il Paese avrà la forza e le energie per rimettersi in piedi. Ci attendono mesi difficili sia a livello economico che a livello sociale, a dirlo il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Antonio Misiani in una conferenza stampa digitale organizzata dalla compagina abruzzese del Partito Democratico. Il Vice Ministro ha rivendicato il ruolo del governo in questi ultimi mesi e decreti per il rilancio dell'economia. Misiani ha anche palesato l'orientamento del governo verso l'accettazione del Recovery Fund e del MES che secondo il Vice Ministro farebbe ottenere all'Italia circa 36 miliardi con tassi di interesse vicini allo zero. Misiani ha anche parlato di Abruzzo sia per quanto riguarda l'annosa questione dell'alta velocità in un'ottica di investimenti in opere pubbliche per risollevare l'economia nazionale, sia per quanto riguarda la ricostruzione che ancora procede a rilento benché la nomina del commissario Legnini. Io credo che abbiamo l'occasione per modernizzare tanti ambiti del nostro paese. Avete citato giustamente l'alta velocità che si ferma a Salerno sostanzialmente, è in costruzione la Napoli-Bari, io credo che la dorsale adriatica debba essere oggetto di una riflessione, credo che quelle risorse possano e debbono andare anche alla modernizzazione della nostra rete infrastrutturale, privilegiando il trasporto su ferro all'alta velocità, ma anche il trasporto pendolare che interessa ogni giorno qualche milione di italiani. Ma io credo che la sfida nei prossimi mesi sia esattamente questa, definire assieme un grande recovery plan nazionale, un piano per la rinascita, per il rilancio del nostro paese che mette in campo le risorse europee, le risorse pubbliche nazionali e che mobiliti anche risorse private. È evidente che nel quadro di un programma pluriannale di forte rilancio degli investimenti pubblici, il tema della ricostruzione delle aree interessate ai terremoti non può che avere un ruolo estremamente importante e noi cercheremo già in sede di conversione del decreto rilancio di fare nostri, almeno una parte delle proposte, quelle di più immediata rilevanza, avanzate dal commissario Legnini, Grazie. 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 Grazie.